Weee! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi la patch 10.4 finalmente è arrivata con un downtime pazzesco! Due ore e mezza di attesa per avere tutti i file disponibili sia in game che ovviamente nei codici sorgenti! Su Twitch ieri in live ne abbiamo viste delle belle i nuovi eventi del file, appunto l'evento finale, le nuove skin, l'aggiunta delle modalità! Insomma ragazzi questo finale di season sarà veramente col botto in tutti i sensi! Nel video di oggi parleremo innanzitutto di alcune curiosità sulla skin Da Vinci, chiamata ovviamente GLOW nel linguaggio internazionale, noi invece la chiamiamo Da Vinci! Ci saranno delle particolarità che sembrerebbe possano influire tantissimo sul regalare questa skin! Parleremo anche ovviamente di tutto ciò che riguarda l'evento del razzo, chiamato proprio THE HAND! Quindi la fine è il nome che troveremo in game e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte e su tutte le news di Fortnite! Prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone, grazie di cuore ragazzi per scioppazzare di prepotenza, quando fate le scioppazzate ho la voce che mi sta andando, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi qua sul canale YouTube e sul canale Twitch e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Prima però io ve la devo fare ragazzi la domandina, devo saperla, mi avete risposto anche ieri in tantissimi e vi ringrazio, ho letto non tutti i commenti ma un po' li ho letti, chi da pad, chi da controller, da tastiera... Insomma era ovvio che ci fossero due fazioni ben divise, ma oggi vi chiedo, cosa ne pensi della patch 10.4? Lascia perdere tutta la roba che c'è inserita nei file di gioco, ma di quello che c'è in game, come ti sembra? Modifiche per quanto riguarda la mira per i giocatori da pad, inserimento della nuova location sotto la pista, quella dello sterrato... Tante cose ancora trovate, come vi sembra? Vi piace? L'hanno rimesso il bouncer, avete presente la pedana dove si si rimbalza anche se è un po' nerfata? Che ne pensate? Ditemi qui sotto nei commenti se c'è stata oppure non c'è stata? Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a vedere una delle grandissime novità di questa patch che non è altro che l'inserimento nella modalità creativa della modalità de combine, quindi la combinazione una modalità davvero interessante perché racchiude in sé un sistema super super preciso per migliorare con la mira con diverse armi, fucili a pompa, fucili d'assalto, cecchini oppure direttamente con la mira sulla zipline c'è anche una leaderboard, come state vedendo è un quartiere fatto apposta in modalità creativa e se non ricordo male avevamo liccato questa mattina che sarebbero arrivate anche delle skin in regalo o meglio due versioni, due varianti di alcune skin giocando partite nelle modalità creative vi terrò aggiornato in questi giorni perché non sono ancora disponibili ma sappiamo già che saranno presenti ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento e qua si parla invece di beta di Fortnite terminata, presente nei file di gioco queste righe di codice, se voi guardate la seconda riga c'è scritto proprio closed beta, quindi la domanda è abbiamo giocato questi due anni a una versione beta di Fortnite sarebbe pazzesco da pensarci, vorrebbe dire che veramente la season 11 rivoluzionerà tutta la concezione di quello che sappiamo del nostro battle royale preferito magari hanno utilizzato questi due anni per stabilizzare chissà che cosa il movimento del personaggio, le tecniche di costruzione, la mira, lo sparo, la cadenza dei proiettili insomma sicuramente lavorare su un gioco come Fortnite con una community così grande richiede una precisione millimetrica anche se oramai ci hanno abituato a bug su bug che ovviamente fanno parte della storia del gioco in sé incredibile ragazzi con queimi, queimi, che vorrebbe dire quindi mischiato con come modifiche e chiusura della beta da adesso ci sarà l'early assets, staremo a vedere se in realtà vedremo delle modifiche sensibili sul game e andando avanti invece parlando appunto di ciò che succederà o meglio di ciò che dovrebbe succedere si parla di evento razzo di nuovo dopo 6 season di distanza season 4 evento razzo abbiamo altre informazioni innanzitutto qui siamo nel magazzino dove c'è il rocket chiamato nei file di gioco visitors warehouse quindi proprio la casa del visitatore sono apparsi sugli schermi questi disegni ve lo faccio vedere un pochettino più ad alta definizione ed è ovviamente un chiaro sintomo di modifiche sul mecha sui robot, sul brutto scusatemi sui robot in poche parole se noi guardiamo non si capisce bene quello che voglia insinuare questa immagine ma ci sono sicuramente delle infezioni ad alcune parti del robot il che potrebbe davvero voler dire che finalmente ce ne libereremo nella season 11 effettivamente non è stata proprio una grandissima mossa quella di epic inserire i robot e siamo già passati a un sacco di righe di codice relative all'evento finale in game si chiamerà the end quindi la fine ma nei file di gioco l'evento si chiama night night notte notte in poche parole come vedete countdown script late player passive setup grant late player knock player movement block slow move player sono un sacco di voci che vanno a richiamare tutto ciò che succederà e tutto ciò che non si potrà fare durante l'evento ce ne sono tantissime altre di cosa addirittura si parla del tomato si parla degli alberi si parla di modifiche alla alla camera potrebbe veramente succedere di tutto nella mappa voglio comunque tranquillizzarvi ragazzi perché questa invece è una schermata che ci interessa tantissimo in quanto durante l'evento non potrete essere killati quindi ragazzi basterà semplicemente che entriate in una partita e starete tranquillissimi perché l'ultima riga ci dice playlist special event no killing quindi non si potrà killare nessun avversario ovviamente non potrete essere killati ci saranno dei rumori molto acuti di sirene come leggiamo nella seconda nel secondo blocco ultima riga launch warning audio li abbiamo anche sentiti non mi fido a farveli sentire adesso qua ma insomma chiudiamo con questa immagine proprio del visitatore che come vedete riflette sul suo casco un rocket oramai non più presente quindi semplicemente un magazzino è totalmente vuoto insomma ragazzi un evento che sarà indispensabile vivere per vedere il vero cambiamento della season e andiamo ragazzi all'ultimo argomento di oggi è arrivata questa immagine da da qualche ora ma voglio mettervi subito in tranquillità è l'immagine relativa alla skin da vinci quella che andrà a sostituire la skin iconic e purtroppo c'è stato un bug mi sono impazziti i leakers quando hanno visto che nella skin da vinci erano presenti anche dei v bucks quindi giustamente è una di quelle skin che avrà un emote personalizzata come vedete c'è anche il suo balletto ve l'avevo fatto vedere un paio di giorni fa ma viene subito troncato l'entusiasmo dicendo the glow skin vi ricordo glow è il nome della da vinci will not be granting v bucks quindi non ci saranno v bucks quando otterrete e se vorrete ottenere la skin da vinci ma in realtà c'è una bella notizia prima di salutarvi perché è stato trovato proprio nei file di gioco il gift glow token quindi sembra che sarà possibile regalare la skin da vinci ad un vostro amico non ne si sa altro quindi io vi tengono vi tengherò aggiornati non ce la faccio vi terrò aggiornati su tutto il proseguo se non qui controllate anche la mia pagina instagram io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video news mi raccomando iscrivetevi al canale vi ricordo che le mie live sono su twitch noi ci vediamo in live alle 8 su twitch ciao io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche il video ci vediamo in live alle 8 su